Andiamo verso la grande Firenze, lo ha detto il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella in un incontro a Palazzo Medici Riccardi, insieme a lui, al tavolo, altri 12 sindaci dell'area metropolitana per parlare dei temi fondamentali per creare un territorio compatto e versatile, a partire dalla mobilità, dalla viabilità, con il sistema tramviario, all'ambiente, poi la famiglia, il turismo e la sicurezza urbana. È il caso di dire che l'Unione fa la forza e per tradurla in termini istituzionali, la decisione presa è quella di creare un'associazione intercomunale che possa aprire le porte a progetti e a nuove prospettive comuni. L'associazione intercomunale è uno strumento previsto dalla legge italiana, attraverso la quale i comuni mettono insieme determinati servizi e funzioni da svolgere. Si è parlato anche degli appalti e dei contratti, anche con il PNRR avremo grandi opportunità di investimento, facciamo collaborare i nostri uffici per fare appalti comuni, oppure concorsi per assumere personale, avere una graduatoria unica. Anche questo è una forma di associazione, quindi l'associazione è un soggetto giuridico, non è un nuovo carrozzone, un'infrastruttura, non è un ente politico istituzionale, è appunto una forma di associazione tra i diversi comuni che mantengono la loro autonomia ma mettono insieme alcuni specifici compiti.